Ministro, c'è un nodo di queste ore che riguarda qualora un lavoratore torni sul posto d'impiego, contragga il virus. C'è il tema della responsabilità penale che non può essere il datore di lavoro. Come se ne esce? Lei ha una proposta precisa? C'è già una proposta, noi abbiamo già lavorato in queste ore. Già ieri è stata emanata una circolare dell'Inail che insieme al Ministero del Lavoro ha attenzionato e guardato il tema che già è esplicativa e che già chiarisce molti punti. Ecco, quindi però Ministro, se uno si prende il virus sul posto di lavoro, di chi è la colpa? Finisco così, vi spiego. Ci sarà una norma, una legge che dirà che il datore di lavoro che ha applicato tutti i protocolli nazionali, li abbiamo scritti tanti, le linee guida, quello che hanno stabilito le regioni, ma anche eventuali ulteriori protocolli, ne stiamo sottoscrivendo ad esempio uno nel settore dell'agricoltura, se il datore di lavoro ha applicato tutti questi protocolli ovviamente non ha alcuna responsabilità.